Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma la vita che me l'ha permesso? Salve ragazzi! Abbiamo messo questa possibilità di far girare una ruota particolare che parte da x1, x2, x3, x4 e x5 che si può azionare donando 5 sub in chat. Ogni 5 sub donate si può attivare questa ruota che si chiama ruota salva maratona detta ruota di scorta. Quindi se volete più informazioni basta fare punto esclamativo ruota e la ruota in questione è questa qui. Quindi con ogni 5 sub rifiutate la possibilità di attivare la ruota salva maratona che consiste nel girare la ruota ed attivare il moltiplicatore per quelle stesse sub donate per girare. Quindi punto esclamativo ruota in chat per sapere più informazioni. Bacione! 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 nooo e mo? che disgrazia no 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 e mo quanto ero? fa una clip fa una clip c'è dicevo che adiamo ietti io non c'ho le forze chiedi no? vieni sul letto? stai dormendo per carità hanno fatto un volo mondiale mettiamo a mettere sul letto ce l'ho io il microfono un abusamento goliardico? aspetti anche lei? non si preoccupa sei spostato? aspettate vai presto 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 no maoo finito paletti ricco faccio abuso madre me per favore non piangere No ci rimaneremo Ah qua c'è il numero Degli spettatori E come questo qua Eh insomma Ah sì è quello Vieni qua Vieni qua Eh oh oh Eh Facci la sua bene Grazie a tutti Luca Faccio lì E so pure falluto E si E si Sono che si Sono uno streamer e merdi Sono uno piazza e merda Che non d'altro Forche bastardo Sono uno piazza e merda Perché l'altro so buono E io so malamenda E capito Che si è Mannaggia Gesù Cristo Voi che spammate questi cazzi alert Quando io mancazza Mannaggia Gesù Cristo Porco Dio Ha gi falluto Ha gi falluto Non fa niente Ha gi falluto Mannaggia morta Ma non mi scassato Mi piace troppo il sushi Ah ti piace troppo il sushi Ah ok ok Allora si Ma no Ma lo si Ma lo si Ma no Mi piace Anche non mi piace Ok Poverino Basta Ho dato pure il live Non dovete offendere il mio sushi Avete capito Porco Dio Ragazzi comunque per fare una scorreggia Perfetta Basta Divaricare le gambe Posizionarsi così Prendere il microfono E sentite Fichelina Cazzo Sentite È abbastanza Siamo da HDD LED Ok Grazie per i bit HDD LED controlla il positivo e il negativo È importante Porco Dio 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 E' abbastanza Lullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Grazie a tutti E' cazzo si scali Scusate signori, scusate, non è per voi Gula Ma facci due cazze Mamma mia Me coglioni Amazon Poi sei il corriere, è un culmo Gennao, corriere, vai Gennao, corriere Gennao, corriere Gennao, corriere Sponsate, no, sponsate Gennao, corriere Gennao, corriere Gennao, corriere Gennao, corriere Spammate il privato su Discord Spammate il privato Oh Il corriere Vabbè, sono salzato, sono salzato Non è a correre Ma non è arrivato subito Questa che fai Sì, è a correre